Buongiorno a tutti, allora vi volevo informare che dal 9 agosto fino al 20 agosto farò lezioni su Zoom, qualsiasi persona che è interessata può partecipare, basta chiamarmi al numero 338 8475 751 e vi darò le spiegazioni come funziona il collegamento su Zoom e come partecipare alle mie lezioni. Allora lunedì 9 agosto alle 9 la mattina faccio lezione di stretching, è una lezione semplice per qualsiasi persona, chi vuole partecipare, un risveglio muscolare, usiamo anche le cinture dell'accappatoio che abbiamo a casa, usiamo la sedia, usiamo dei cuscini, facciamo lezioni molto diverse per tutto il corpo, risvegliamo tutto il corpo, dopodiché lunedì alle ore 13 abbiamo sempre stretching, sempre la lezione di lo stesso genere, dopodiché martedì alle ore 18 abbiamo lezione di Pilates che sarebbe un misto di stretching, di yoga, Pilates, tutti gli esercizi che io unisco per sempre lavorare molto sulla postura, lavorare sulla muscolatura, rinforzamento e elasticità sulla respirazione, ho unito tante tecniche insieme e l'ho chiamato Pilates, ovviamente ci sono anche la tecnica di Pilates, alle 19 uguale c'è lezione di Pilates, martedì, mercoledì alle 9 c'è lezione di Pilates, dopodiché giovedì alle ore 18 c'è stretching, e alle ore 19 c'è stretching, venerdì alle ore 9 c'è stretching, lunedì alle ore 13 avete anche stretching, questo lunedì di 9 agosto e invece mercoledì alle ore 13 avete Pilates, comunque le ore ci sono, tutti i giorni avete la possibilità di fare lezione, potete scegliere quante volte volete allenarvi, una volta, due volte, tre volte, quattro volte, cinque volte, ognuno può decidere quante volte allenarsi, può decidere anche giorno stesso se vuole fare allenamento, non ci sono problemi, potete scegliere, basta che mi avvisate, basta che mi chiamate, come hanno fatto già tutte le persone già da un anno che fanno lezione con me su Zoom, addirittura c'è gente che anche dieci minuti prima delle lezioni mi fa, ci sono, allora ho detto ok, non ci sono problemi, ok? Per questo dal 9 agosto fino 20 agosto io sono per voi, potete contattarmi tranquillamente per avere tutte le spiegazioni, è facilissimo scaricare l'applicazione su Zoom o su telefono, su tablet o su computer, chiunque lo può fare, altrimenti aiutatevi e poi io vi insegno come collegarsi, come ho fatto con tantissime persone, li ho insegnato io piano piano, due o tre volte abbiamo provato, non una volta sola, sì sì sì, perché le persone devono essere tranquille quando stanno con me, devono essere serene tranquille, che riescono a collegarsi da sole, riescono a posizionarsi a casa propria e possono fare la lezione. Poi avete un'altra opzione, potete fare anche lezioni private, singole, ovviamente su Zoom, altrimenti io vivo a Prato, in tutta la zona, diciamo intorno a Prato, se qualcuno vuole che io venga a casa a fare lezioni, non ci sono problemi, oppure potete venire a casa mia, di qualsiasi esigenza, se avete bisogno io vi farò lezioni personalizzate, ovviamente studiate solo per voi, per ogni vostra esigenza, ogni vostro bisogno, avendo già 36 anni di esperienza, ma non è tanto che conta questa, ma alcuni molto interessano, allora 36 anni di esperienza, riesco ad aiutare il prossimo, a fargli risolvere i problemi in un modo diverso completamente da tutte le persone che insegnano, perché io voglio prima cosa capire la persona di cosa ha bisogno, non solo tanta questione fisica, ma questo si approfondisce personalmente, ok? Allora se siete interessati contattatemi al numero 338 84 75 751, vi aspetto, grazie.